Buongiorno a tutti, oggi parliamo di un tema molto caldo, vedremo perché, cioè parliamo di open data e di corruzione e proveremo a parlarne in modo critico, innanzitutto vi do qualche piccolo riferimento su come ci organizzeremo, io ho una presentazione, proverò a lasciare in coda lo spazio per rispondere a domande e sollecitazioni, anche perché l'intervento di oggi non è un intervento di tipo strettamente normativo, nel senso che non parleremo necessariamente dell'applicazione di norme e quindi sarà necessario e sarà opportuno avere il vostro feedback, quindi vi invito ad intervenire in chat, quando potrò darò risposta immediatamente, altrimenti lo staff di Formex metterà da parte le domande e le affronteremo a tempo debito alla fine del corso. Sì, Gianfranco Andriola nota la baraca alle mie spalle che dice caricamento in corso, attendere prego, che è un po' la sintesi, io ce l'ho dietro perché rappresenta un po' quello che è il quadro di tutto il diritto delle tecnologie e in particolar modo a che punto siamo nell'utilizzo degli open data per combattere la corruzione, abbiamo fatto un pezzettino, quello nero che c'è dietro, ma per arrivare in fondo ancora abbiamo della strada davanti. Io vi ho fatto la domanda, l'ho messa utilizzando degli hashtag in modo tale che voi possiate, volendo eventualmente anche twittarle in modo da proseguire la discussione anche online. Il tema del webinar è un tema che noi abbiamo discusso con Patrizia prima della pausa estiva, ma che incredibilmente ritorna, o non tanto incredibilmente, ritorna di attualità con questo articolo che è un articolo della settimana passata, era proprio lunedì scorso e Wired Italy, il link lo trovate in calcio alla slide, dice che in Italia gli open data non battono la corruzione. Di fatto è un articolo di Marco Bosco, un giornalista, che descrive quelli che sono gli esiti di un progetto, il progetto TACOD, che voi conoscete e soprattutto immagino molti di voi conoscano perché abbiano partecipato ad un precedente webinar in cui, se non sbaglio, ci sono stati i colleghi Segato e Ingrasci che hanno discusso del progetto e dei risultati di quel progetto. Era inevitabile che dopo cinque anni in cui si parla di open data, lo ricordo in Italia il tema è iniziato a diventare di appeal nel 2010, all'indomani dell'approvazione della direttiva Obama, era l'8 dicembre 2009, era inevitabile che prima o poi ci sarebbero stati dei bilanci e quindi era inevitabile, a mio avviso, che i bilanci si chiudessero con questo tipo di considerazione. In Italia gli open data non battono la corruzione, così come oggi se dovessi dare un giudizio, gli open data non migliorano la trasparenza della pubblica amministrazione, gli open data non hanno migliorato l'efficienza della pubblica amministrazione, gli open data non hanno migliorato, non hanno dato un contributo alla crescita del sistema economico di questo paese, dell'economia in materia di questo paese. Ovviamente, quindi oggi proveremo a capire se gli open data non battono la corruzione per quello che è successo fin qui, per come sono stati declinati fin qui o se gli open data non possono assolutamente combattere la corruzione e aiutare la trasparenza. Ovviamente se siamo soltanto alla slide 2 di 43, la risposta è che gli open data, così come sono stati declinati fino ad oggi nel nostro paese non hanno un impasto. Mi permetterei poi di affrontare due temi, sulla lotta alla corruzione sicuramente voi avete seguito numerosi interventi formativi, siete stati assolutamente allineati a quella che è la normativa più recente, la legge anticorruzione, la legge Severino, la 190 del 2012, sicuramente avete contezza della circostanza per cui dobbiamo capire cosa significa combattere la corruzione. Open data, nella lotta alla corruzione intendiamo open data per reprimere, quindi per individuare dei fenomeni che già si sono verificati, oppure stiamo parlando di open data che servono a prevenire, quindi cultura della legalità, possibilità di controllare e di introdurre degli effetti di deterrente nei confronti di comportamenti scorretti e di comportamenti di tipo corruttivo, perché proverei a ampliare i nostri orizzonti, noi abbiamo una mentalità tipicamente italiana sulla corruzione, per cui per noi il tema della corruzione, lo vedete ogni volta che affrontiamo i dibattiti sui giornali, si risolve aumentando le pene. Sicuramente aumentare le pene è una strategia, ma quella è una logica di tipo repressivo, ormai il carro è già uscito dal recinto, quando ho una pena da applicare significa che ho un contratto pubblico che è stato aggiudicato alla ditta che non era la migliore, significa che ho un dipendente infedele, un dipendente, un politico infedele, significa che c'è stato già quello che gli anglosassoni chiamano un breach, c'è una rottura nel rapporto fiduciario tra i cittadini e la pubblica amministrazione, quindi di fatto siamo tutti concordi e la legge Severino va in questo senso, nell'affermare un principio per cui la corruzione debba essere prevenuta e poi ovviamente, naturalmente e nel modo più rigoroso possibile combattuta e repressa. Quali sono i contenuti? Tendenzialmente, seppure non lo faremo nel modo così schematico come in questo sommario, proveremo quindi a tracciare un primo bilancio delle politiche di open data di questo Paese, ormai a quasi 4 anni dall'avvio della strategia di open data, la direttiva, il primo lancio del portare open data fu dell'ottobre 2011, quindi ci avviciniamo ai 4 anni. Dopodiché, dopo aver fatto un bilancio delle politiche italiane, non solo di dati aperti, cercheremo di capire come e se i dati aperti possono essere utilizzati contro la corruzione e quelle che ormai sono le prassi che anche a livello internazionale ci dicono che possono funzionare contro la corruzione. Il terzo è una raccolta, un florileggio di alcuni esempi italiani e internazionali che possono essere interessanti da seguire. Cominciamo con il bilancio. Come dicevo, viviamo quella che io chiamo in modo provocatorio probabilmente l'era del distingo, in cui gli open data non servono, la trasparenza ce n'è troppa, le norme sulla anticorruzione sono una fastidiosa complicazione, ben raffigurata dal puffo quattro occhi, che è sempre il saputello del villaggio dei cartoni animati, della nota saga degli ometti blu. Questo approccio, confesso, mostra il fianco, nel senso sembra un approccio superficiale. Quali open data non servono? Perché? Perché se noi andiamo a vedere, questa è una fotografia che faccio vedere molto spesso, probabilmente qualcuno di voi già l'avrà vista, questo è il muro di una città meridionale e l'anonimo graffitaro barese dice quello che diceva Tim Barnestine nel 2009, ARPA e ASL vogliamo i dati subito sui tumori. Cioè significa che c'è una percezione da parte dei cittadini che le pubbliche amministrazioni hanno dei dati, che questi dati sono importanti per le proprie vite e addirittura i cittadini sanno anche dove sono. Quando io ricordo noi iniziavamo a parlare di open data, ci chiedevamo se questo era un tema di nicchia, anche nella, io ho visto nelle slide, anche nel rapporto Tagod emerge questa cosa per cui il tema degli open data diventano un tema di nicchia, rimangono un tema di nicchia. Su questo mi permetto di dissentire, cioè probabilmente non c'è un tipo di dibattito pubblico sugli open data, ma che i cittadini, ripeto l'anonimo graffitaro barese, sappia perfettamente che da determinati dati che sono in possesso di amministrazioni, che lui identifica correttamente, dipende la propria vita, quella dei propri figli, non del dubbio. Quindi probabilmente il dibattito che rimane di micchia è chi ha questi dati, come vengono utilizzati, però devo dire che la percezione da parte degli utenti, il rodetanau dell'anonimo barese mi sembra molto consapevole e probabilmente molto più consapevole di quello che potessimo ipotizzare nel 2009. Quello che non mi sembra adeguatamente conseguente è la consapevolezza da parte delle pubbliche amministrazioni, cioè a questo livello di evoluzione del sentire, mi hanno insegnato tra l'altro che anche le norme seguono quello che è il sentire della società, quindi il fatto che le persone comincino a sapere che i dati sono importanti, i dati sul traffico, i dati sul metro, i dati sulla salute, i dati sul lavoro, i dati sui contratti pubblici e poi ci ritorneremo sui dati sui contratti pubblici e sulla spesa pubblica, mi sembra che non abbia fatto, e questo si è rimasto di nicchia, il dibattito su quello che devono fare le pubbliche amministrazioni per mettere questi dati a fattor comune e a beneficio di tutti. La logica conseguenza è sempre brutto parlare per classifiche, però aiuta, semplifica, anche perché le classifiche al netto di tutte le semplificazioni contengono il riferimento ad indicatori importanti e questa è l'Open Data Barometer fatta dalla Web Foundation, che è la fondazione di Tim Berners-Lee, che vede l'Italia per l'anno 2014 al 22esimo posto, la classifica dell'Open Data Index, che è l'indice di Open Data Foundation, ci vede al 25esimo posto, tendenzialmente le posizioni sono assolutamente paragonabili, siamo in quella fascia di classifica, tanto per intenderci. La posizione, che tra l'altro è in discesa, se vedete rispetto alla precedente del 2013, mi permetto di parlare dell'Open Data Barometer, perché è una ricerca che nel 2014 ho seguito direttamente per l'Italia. Questo tipo di risultato è frutto di una serie di scelte compiute o scelte mancate. Questo è l'idea e questo è il quadro che esce da un importante rapporto dell'osservatorio del Politecnico di Milano, pubblicato nel marzo del 2015, sulle politiche di Open Data italiane. Innanzitutto ci sono dei dati che potete constatare tutti andando sul portale di dati aperti, dati.gov.it, se voi vedete quanti sono i comuni che fanno Open Data, vedrete che pubblicano dati aperti circa 90 comuni su oltre 8 mila. Il 68% degli enti non ha un Open Data Manager, non ha neanche un Data Manager, quindi non c'è una gestione dei dati all'interno delle amministrazioni. I potenziali beneficiali, questo dato per me è fondamentale, incidono solo nel 4% degli enti, cioè soltanto il 4% degli enti ha in qualche modo, dà in qualche modo peso al parere e alle esigenze degli utenti nel decidere quali informazioni aprire. Il 76% delle amministrazioni non prevede di migliorare la qualità dei dati dopo la prima pubblicazione, quindi c'è un'ansia da comunicato stampa, c'è un'ansia da tweet del Sindaco, del Presidente della Regione, del Ministro di Turno nel prendere quel dato, pubblicarlo, poi una volta fatto il tweet, fatto il comunicato stampa, mi è capitato più volte di sentire, abbiamo fatto gli Open Data, come se gli Open Data fossero il lancio di un portale e non fossero un metodo di governo, non fossero un metodo di comunicazione, non fossero un metodo per assumere le scelte. Meno del 7% degli enti prevede degli incentivi ai dirigenti per aprire i dati, sappiamo quanto questo nelle pubbliche amministrazioni sia invece importante. Il 64% degli enti pubblica dati senza una licenza, il 23% dei rispondenti a questa indagine non conosce il significato di metadato, l'84% non si preoccupa della frequenza di aggiornamento dei dati, immaginiamo a qualunque dei dataset rilevanti nella lotta alla corruzione, non aggiornato oppure che si riferisca a due o tre anni fa, avrà importanza se va bene per una tesi, ma non potrà essere utilizzato in modo corretto per tutti. C'è Giuseppina che pone una domanda, siamo sicuri che i dati siano pubblicati in maniera semplice e comprensibile per un'ampia platea. Chiedo lo staff di tenerla, questa domanda, magari incollandola nella nostra lavagna di gestione in modo da poter poi dare una risposta più tardi, dopo che avremo finito di leggere tutti questi dati. L'82% non fa monitoraggio degli open data scaricati e utilizzati dagli utenti, quindi non solo abbiamo prima chiesto ai nostri stakeholders, che siano cittadini, che siano associazioni, che siano giornalisti, che siano imprese, quali sono i dati che per loro sono rilevanti, ma addirittura non ci preoccupiamo neanche di sapere l'effetto che fa, cioè non ci preoccupiamo nemmeno di sapere poi se le persone quei dati li abbiano trovati interessanti, se quei dati siano stati scaricati, se qualcuno li abbia riutilizzati per farne un'app, per farne un'infografica. L'unica cosa di cui ci preoccupiamo è che qualche giornalista non ci faccia un pezzo contro, ma naturalmente i dati che abbiamo pubblicato di solito sono talmente inutili e rilevanti che nessuno li riutilizzerà e se anche fossero rilevanti probabilmente, viste queste percentuali, non sarebbero esatti e non sarebbero aggiornati. Poi dopo si pone il problema della comprensibilità sollevato da Giuseppina, che vedremo più tardi. Il 70% non consente la possibilità di interagire, segnalare se c'è un errore nel dataset, possibilità di avere un indirizzo email per fare delle domande, per chiedere come è stato formato quel dataset, quali sono stati i criteri che sono stabilizzati, nulla di tutto questo. Nessuna attività promozionale prevista dal 41%, questo per me è molto importante perché in un paese in cui il 40% della popolazione non ha mai navigato sul web, dire che metto un dataset online senza dire a tutta la popolazione o almeno agli stakeholder che quel dato è disponibile significa di fatto che nessuno o poche persone, probabilmente solo quella nicchia di addetti e ai lavori a cui si riferisce la ricerca di TACO. Organizzano hackathon, gli hackathon sono quelle manifestazioni che come voi sapete sono importanti per promuovere la cultura di riutilizzo soltanto nell'1% dei casi, quindi poi ci lamentiamo perché quei dataset nessuno li usa. Il 24% degli enti non conosce le mie guida che agisce dell'agenzia per italia digitale annualmente adotta ed aggiorna, il 42% invece non le rispetta immotivatamente, è come se il 40% non rispettasse le indicazioni della Corte dei Conti ad esempio sui contratti o sul danno erariale, non si comprende perché le indicazioni di agito dovrebbero essere meno vigenti. Il 60% non ha un processo strutturato di pubblicazione, questo ovviamente influisce nel senso che una pubblica amministrazione che ancora lavora con la carta, su procedimenti amministrativi basati sulla carta, non esiste un processo di pubblicazione codificato. Il 68% non ha un approccio strutturato su quali dati aprire, si apre quello che si riesce, di dove c'è il dirigente o l'assessore più strutturato e si apre quello che verosimilmente non fa male, quindi la logica che mi è capitato di riscontrare in molte pubbliche amministrazioni è che vengono aperti dati assolutamente meno importanti perché si ha paura che l'apertura delle informazioni possa trasformarsi in un boomerang in chi l'ha disposta. Giustamente Maria Colcetta Cefalu ricorda il caso di Open Coesione, opencoesione.gov.it, Open Coesione è sicuramente un progetto molto rilevante, Open Coesione e Moniton sono sicuramente un fiore all'occhiello del nostro paese, lo scorso anno hanno vinto, si sono giudicati il quarto posto negli Open Gove Awards, gli Oscar mondiali dei progetti di Open Government, si tratta sicuramente di di un progetto assai evoluto che naturalmente dimostra come anche in Italia siamo in condizioni di essere avanguardia ed eccellenza e sarebbe assolutamente importante che tutti riuscissimo a imparare dall'esperienza di Open Gove, tra l'altro sicuramente ci sono tutti i riferimenti online su opencoesione.gov, a scuola di Open Coesione che è il progetto che Maria Colcetta Cefalu descriveva su Moniton.it, trovate tutti i riferimenti per quei pochi che non lo conoscessero ma ripeto, il progetto Open Coesione è di assoluta eccellenza. Cosa non ha funzionato? Questi dati dimostrano, io dico, sono i dati di un fallimento, se andiamo a incrociare l'Open Data Barometer e andiamo ad incrociare i dati dell'osservatore del Politecnico di Milano ci ne diamo conto che c'è qualcosa che non ha funzionato. Che cosa? Allora, il primo tema è che abbiamo, non basta una parola, la parola Open Data serve una strategia, non è sufficiente, cioè appropriarsi dello slogan politicamente più alla moda come in questi casi è stato quello di Open Data per avere strategia, avere una strategia come dico nella nella slide successiva, non è un portale, né pubblicare tre dataset, ma strategia significa avere un piano di rilasci, quindi con degli obiettivi, cosa aprirò, cosa rilascerò nel corso del 2015, del 2016, con quali risorse, con quale processo di pubblicazione, con quale linee guida, con quale strategia di coinvolgimento degli stakeholders, con quale monitoraggio dell'uso che gli altri hanno dei miei dati, sono tutte informazioni che io ho necessità naturalmente di pormi se voglio avere una strategia, se voglio poter monitorare dei risultati, altrimenti non mi stupisce che arrivi l'articolo di Wired a dire in Italia gli Open Data non combattono la corruzione, ma perché non rientrano nell'ambito di una strategia complessa e se non c'è una strategia è difficile raccogliere dei risultati. Anzi, paradossalmente direi che avere un portale di dati aperti rappresenta l'ultima parte, quella meno importante, perché è il punto di caduta di una strategia che prevede decisione, priorità politiche e amministrative, organizzazione, perché devo avere un processo oliato che mi consenta di pubblicare un dato di qualità e di tenerlo aggiornato, poi solo alla fine mi occuperò della pubblicazione e quindi di quale è la veste grafica del portale, ma tra l'altro esiste il portale nazionale dati Govit che può ospitare tranquillamente i dati delle diverse amministrazioni. Non abbiamo necessità di avere un portale per fare Open Data, l'importante è avere appunto i dati. Gianfranco Andriola vi ha fornito in chat il link alla strategia, alla roadmap della strategia inglese, nel rapporto Tagod appunto, anche nel rapporto Tagod gli inglesi rappresentano un punto di assoluto riferimento per gli dati. I conti non si fanno sui numeri, nel senso, ricordo che quando abbiamo iniziato nel 2010 si contavano quali erano gli enti, Tizio ne ha pubblicati 60, 40 o 3 mila, il confronto si fa sulla qualità del dataset e quindi non è importante quanti dataset pubblico, ma è importante quanto sono rilevanti per i miei stakeholder e che tipo di riutilizzo ne posso fare. Posso fare un riutilizzo per monitoraggio, per monitorare le politiche pubbliche, posso farne un utilizzo dal punto di vista giornalistico, posso riutilizzarle se sono un'associazione, posso utilizzarle per la partecipazione, posso utilizzarli per costruirci sopra un'applicazione. Se questo non posso farlo non conta uno o mille dataset, è chiaro che più sono e meglio è, ma è ovvio che è la qualità e l'impatto in termini di riutilizzo. Da questo punto di vista l'errore che è stato fatto secondo me è evidente e chiaro se si pensa al caso di studio meno conosciuto probabilmente di soldi pubblici. Soldipubblici.com.it è un progetto che è stato lanciato nel dicembre del 2014 e copre i dati di Siope. Siope è la banca dati degli incassi e dei pagamenti tenuta da Ragioneria Generale dello Stato e Banca d'Italia. La cosa interessante è che Siope di fatto è un unico dataset che è possibile scaricare in csv andando su soldipubblici.com.it. In sei mesi di vita, nei primi sei mesi di vita, Soldipubblici ha avuto un motore di ricerca che consente in modo facile, e qui vengo alla domanda di Giuseppina, ha un motore di ricerca che consente in modo facile di interagire con il dataset pubblicato, cioè scrivendo non con il linguaggio che hanno soggetti che hanno per versioni di tipo burocratico contabile, ma chiamando le cose con il loro nome, quindi siringhe, consulenze, pulizie e via discorrendo. Questo ha consentito di avere nei primi sei mesi di attività oltre dieci milioni di queri, cioè oltre dieci milioni di ricerche. Questo secondo me ci insegna due cose. Qual è l'impatto? Una delle cose importanti è misurare gli impatti delle azioni di Open Data, in generale tutti gli impatti. Io la domanda che mi sono posto quando ho conosciuto i dati dell'impatto di questo progetto è, ma quella domanda, la domanda fatta su soldi pubblici, prima a chi veniva fatta, cioè quelli di queri, prima venivano fatte qualcuno, o probabilmente come ritengo non venivano fatte a uno. E perché questo ha importanza? Perché la gran parte delle ricerche che si occupano di monitorare il livello di corruzione in determinato paese fanno riferimento all'indice di corruzione percepita. La possibilità di avere e di poter fare una domanda in un linguaggio semplice ad un dataset e quindi di poter avere un primo livello semplice e a portata di mano, a mio avviso incide sul livello di trasparenza e quindi sul livello di percezione della corruzione di un determinato paese. Vengo alla domanda di Giuseppina a questo punto. Siamo sicuri che i dati siano pubblicati in maniera semplice e comprensibile ad un'ampia platea? Ovviamente questo non vale per tutti i dati ed ovviamente questo ci deve fare assolutamente riflettere sulle modalità con cui noi procediamo alla pubblicazione. Provo a raccontarvi quello che io ritengo. Ritengo che per fare in modo che lo sforzo che le amministrazioni fanno di pubblicazione di un dataset abbia senso è necessario procedere in due modi che possono essere alternativi o concomitanti. Il primo modo è quello di dare oltre al dataset nudo e crudo, di fornire un primo livello di interrogazione o di interazione semplice che possa essere una visualizzazione come soldi pubblici, la possibilità di ricercarlo in modo facile. Poi quelli che hanno le competenze, che siano i data journalist, i giornalisti, più in senso le associazioni della società civile, poi faranno, e questo è il secondo modo, da infomediari, cioè prenderanno quel dato e quell'informazione e proveranno a renderlo conoscibile. È ovvio che se un giornale nazionale recupera come stato per soldi pubblici alcuni dati e informazioni e li fa leggere a un milione di persone, non è tanto importante chi inizialmente riusciva a leggere quel dato o quell'informazione, ma milioni di persone avranno quel dato a disposizione grazie all'infomediario. Questo quindi è importante, anche perché non è detto che tutte le informazioni debbano poter essere lette da tutti. Uno dei casi più importanti, proprio in materia di corruzione, lì era una frode in realtà, è stato reso noto qualche tempo fa da David Yves, David Yves è uno degli attivisti canadesi più importanti in materia di dati aperti e ha reso noto quello che è successo con la pubblicazione dei dati da parte del governo sui contributi al settore non profit, cioè al terzo settore. Lì successe che quei dati vennero pubblicati, il governo venne addirittura criticato perché aveva pubblicato dei dati e delle informazioni dicendo che a chi potevano interessare quelle informazioni avrebbero potuto interessare al più 7 persone in tutto il Canada. Quello che si verificò è che una di quelle 7 persone rilassi effettivamente ci fu qualcosa che non gli tornava e venne scoperta una frode grazie al suo intuito e alla sua competenza della materia da 3,2 miliardi di dollari, quindi anche qui non è detto necessariamente che l'impatto debba contarsi per rimanere all'importanza dei numeri in numero di accessi. Ma dobbiamo convivere con l'idea che alcune volte l'impatto potrà essere garantito e anzi sarà garantito da un accesso limitato, l'importante è che quell'accesso significhi mettere a disposizione le informazioni della nicchia di persone competenti e capaci che conosce quel determinato argomento. Un'altra cosa che abbiamo imparato in questo lasso di tempo è che le leggi non bastano, io faccio sempre questo esempio, noi in Italia abbiamo delle leggi, l'altro corollario è quello che le leggi scritte male non servono, abbiamo fatto un quadro di quella che è la normativa regionale in materia di open data, voi sapete questa è la mappa che io ho curato e disponibile su Google Maps delle regioni che hanno approvato delle leggi regionali in materia di open data, ahimè nonostante, qui vediamo l'impatto delle mode anche in termini di legislazione, non è detto necessariamente che regioni che hanno il pallino verde siano quelle che il pallino verde significa una legge regionale in materia di open data già approvata, non è detto che le norme regionali abbiano avuto un impatto, perché? Perché l'impatto è garantito non dalla presenza di una legge, noi in Italia tra l'altro siamo campioni, questo lo dico da avvocato, di norme destinate alla pubblica amministrazione che non siano rispettate, anche perché molto spesso queste norme si traducono in attestazioni di principio del tipo la regione promuove l'accesso ai dati aperti, sì bello ma da una legge mi aspetto di più, da una legge mi aspetto sicuramente l'individuazione di obiettivi, di diritti, di rimedi che i cittadini abbiano, di sanzioni, mi aspetto dell'individuazione chiara di responsabilità, mi aspetto un obbligo di rendicontrazione da parte degli enti di quello che viene fatto e tra l'altro le norme principio si scontrano con un altro vizio tipico della normativa italiana che è quello del rinvio al regolamento attuativo, e cioè la norma viene fatta, di solito è una norma di principio, le questioni più spinose che non si ha il coraggio o il modo di affrontare vengono rinviate ad un regolamento attuativo. Il regolamento attuativo di solito non arriva o arriva dopo un tempo talmente lungo che la norma originaria è divenuta obsoleta ancora prima di essere davvero applicata. Quindi il ruolo delle norme è sicuramente importante, ma abbiamo bisogno di norme che siano scritte bene, che siano facilmente applicabili e che individuino sanzioni e responsabilità in modo evidente. Il codice dell'amministrazione digitale ci insegna che non è sufficiente prevedere un diritto, ad esempio il diritto alla digitalizzazione di un servizio o alla corrispondenza telematica se non prevedo un modo veloce e poco oneroso per poter esercitare questo diritto. Ad esempio se l'ente non ha pubblicato il dato, io dopo la legge regionale ho uno strumento in più per poterlo richiedere, per poter ottenere in tempi veloci, pensiamo ad esempio di essere dei giornalisti, pensiamo di fare una determinata richiesta, se quel dato arriva dopo 7, 8, 10, 12 mesi rispetto alla mia richiesta, il tema potrebbe non essere più attuale, potrebbe essere più non funzionale ad una determinata inchiesta, quindi le prescrizioni di principio non si conciliano con il paradigma degli open data. Un altro vizio, un altro errore è che molto spesso gli open data sono stati avviati un po' come moda e un po' senza avere un traguardo, cioè raramente sono stati trainati dalla politica, quindi raramente gli open data sono serviti per scegliere sui temi di interesse per una determinata collettività. Io a Mario sono stato in Canada per la terza conferenza internazionale sugli open data, dove c'era un signore che si chiama DJ Patil, un ex Google assunto da Obama, il capo dei data scientist della Casa Bianca, che ci raccontava come i dati vengono acquisiti non solo per essere pubblicati, ma vengono acquisiti inizialmente perché sono uno strumento delle decisioni e poi vengono anche pubblicati, ovviamente magari non saranno pubblicati tutti, però diventano un cruscotto attraverso il quale il decisore, l'amministratore è in condizione di poter prendere le decisioni nel modo più informato e consapevole possibile. L'altra lezione è che se gli open data sono pubblicati, ma non c'è un humus favorevole per il loro riutilizzo, è ovvio che anche in quei casi in cui vengono pubblicati non producono un impatto. Scritto qui, sotto la società civile deve collaborare, ritornando prima all'esempio di open data è un esempio assolutamente virtuoso, perché lì da un lato l'amministrazione che ha forse assolutamente rilevante sulla qualità dei dati, sulla forma di presentazione, dall'altro abbiamo lo stimolo nei confronti di una comunità di cittadini riutilizzatori, monitori, cioè abbiamo la società civile che fa il suo ruolo e quindi utilizza quel dato, perché altrimenti questo processo non diventa assolutamente irreversibile. Un altro tema che soprattutto per la lotta alla corruzione per me è importante è il tema del forziere. Io ricordo che quando abbiamo iniziato a parlare di dati aperti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, l'idea che avevamo è che esistesse da qualche parte il forziere che conteneva i dati, che era custoditi da questo burocrate invece che non era aperto e quindi lo custodiva gelosamente e che le operazioni di apertura dei dati fossero qualcosa di simile a quella fatta da George Clooney e Brad Pitt in Ocean's Eleven, quindi un piano ben riuscito che attraverso azioni di tipo organizzativo e normativo individuassero il forziere e consentissero ai buoni di aprire il forziere e di pubblicare quello che lì era contenuto. In realtà molto spesso lavorando ad una serie di processi di dati aperti ho invece ricavato la sensazione che quel forziere laddove esiste molto spesso è vuoto. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo una pubblica amministrazione che ragiona e perché lavora per provvedimenti o al massimo per procedimenti. Molto spesso mi è capitato di parlare con dirigenti e funzionari che mi dicono ma noi non abbiamo dati, cioè non considerando in modo autonomo l'amore di dati e di informazioni che venivano raccolti nell'ambito dei procedimenti amministrativi. Pensate ad esempio quanto accade in materia di appalti e di contratti pubblici. Soltanto da poco cominciamo ad assistere ad alcuni tentativi di sistematizzazione della raccolta dei dati relativi ad un appalto, ma finora tutta la gestione di un contratto pubblico, tutta la gestione di un'opera pubblica si è sviluppata secondo il modello di una gestione cartacea, quindi una gestione che prevede delle riserve nel registro, che preveda degli atti, che sono degli atti che tra l'altro vengono tenuti in modalità cartacea, cosa che non si concilia con una politica di gestione del dato che consenta prima all'amministrazione ad avere in tempo reale un quadro di tutte quelle che sono le opere gestite e quindi al decisore di avere chiaro qual è il cruscotto per poter prendere quelle che sono le decisioni da fare in materia di contratti, in materia di edilizia scolastica, in materia di traffico, circolazione, trasporti e via di scorrendo e poi che consenta una volta che io ho questi dati di poterli pubblicare, quindi molto spesso i dati così come li vorrebbero i giornalisti, i dati così come li vorrebbero le imprese non esistono, non sono raccolti, non sono conservati, non sono aggiornati e quindi il primo sforzo da fare davvero è quello di ripensare la gestione dei procedimenti a rischio corruzione in modo tale che gli open data possano essere rilevanti per la gestione, nel senso che se oggi l'amministrazione non raccoglie dei dati che possano essere facilmente raccolti, aggiornati e poi pubblicati, diventa facile pensare che i dati aperti creati a valle del processo, a valle della commessa, a valle del contratto possano avere un impatto, perché questo porterà non solo un costo di realizzazione della politica dei dati aperti molto più rilevante rispetto a che se noi formassimo il dato nel corso del procedimento, ma lo renderà pressoché impossibile da gestire nel prosieguo, perché quel dato una volta formato sarà difficile averlo aggiornato nei tempi che invece la politica dei dati ci richiede. Domenico dice, se pensi agli open data legale e ti rendi conto, se lo danno netto i cittadini hanno uno strumento che gli consente di capire se RAP ha operato correttamente con procedure distorte. Sì, ripeto, adesso cominciamo da poco e ovviamente la percentuale di dati disponibili è minima rispetto al numero di amministrazioni e dal numero di loro procedimenti che vengono gestiti. Un altro tema assai importante e rilevante e l'ho provato a riassumere con una diapositiva, con una slide che riguarda il noto caso della FIFA, l'assegnazione dei campionati del mondo, ovviamente è una vignetta assolutamente ironica, non bastano i dati pubblici, e cioè quando si parla di open data prevalentemente si parla di dati della pubblica amministrazione, non è un caso che oggi voi siate qui e siate nella vostra totalità, credo, soggetti che appartengono, collaborano con pubbliche amministrazioni, ma ormai sappiamo perfettamente che se io voglio fare in modo che un determinato contesto sia immune dalla corruzione o comunque abbia gli anticorpi, non devono essere sotto controllo soltanto i public bodies, e cioè le pubbliche amministrazioni, non soltanto i partiti politici, ma abbiamo necessità anche di controllare il settore privato. Questo succede per quanto riguarda le lobby, succede per quanto riguarda alcuni importanti soggetti privati. Questa prima introduzione per me era fondamentale per provare a capire che quello che ci dice l'articolo di Wired e quella che è la sensazione che credo abbiamo tutti noi, cioè qual è stato l'impatto degli open data contro la corruzione, oggi possiamo dirlo senza dubbio che l'impatto è stato molto basso, così come tutti gli altri impatti fino ad oggi sono stati molto bassi. E io credo, spero, che abbiamo capito quali sono stati gli errori che abbiamo commesso. Ovviamente quelli che vi ho tracciato nelle slide che precedono sono delle suggestioni, se voi avete altre suggestioni possiamo arricchire questo elenco e farlo diventare un piccolo breviario di lezioni che abbiamo preso, che ciascuno di voi ha preso. Quello che mi viene da dire è sempre per rispondere alla domanda iniziale, gli open data possono combattere la corruzione, fino ad oggi non l'hanno fatto, ma io non ho dubbi e non sono l'unico evidentemente a ipotizzare, ad avere la consapevolezza che gli open data per la corruzione, per combattere rivoluzioni, siano ormai una strada segnata. Lo avevano già anticipato i paesi che appartenevano al G8, questa è una fotografia del riunione del G8, 17 giugno del 2013, la data in cui gli otto paesi più importanti del mondo avevano sottoscritto la cosiddetta open data charter, una carta di principi. È notizia del novembre dell'anno scorso, il G20, quindi il contesto comincia ad allargarsi, hanno deciso di avviare nell'ambito del gruppo di lavoro, del working group sull'anticorruzione, che lavora e opera in seno al G20, di individuare degli open data principle. Quindi la strategia che riguarda gli open data è una strategia che i G20 utilizzeranno per combattere la corruzione. Si sta ragionando in questi mesi, in queste settimane, di come definire dei principi che siano vari di per tutti. D'altronde questo mi aiuta molto, ci aiuta molto, nel senso se abbiamo capito che noi come Italia abbiamo delle difficoltà a comprendere il paradigma e a declinarlo, l'adozione di una serie di linee guida internazionali potrebbe aiutarci a comprendere meglio con l'individuazione anche di buone prassi, potrebbe aiutarci a recuperare parte del tempo trascorso. C'è Calogero di Chiara che dice che fine ha fatto l'open data charter. L'open data charter, vado a memoria, dovrebbe chiudersi come esperienza al dicembre del 2015, almeno in questa prima fase dell'open data charter, perché era un'iniziativa dei G8, adesso probabilmente amplierà la propria cornice, arrivava fino a dicembre del 2015, ahimè anche in quel caso l'Italia non ha raggiunto dei risultati molto, come dire, lusinghieri, da un monitoraggio indipendente pubblicato nella primavera, credo di quest'anno, una classifica fatta tra gli otto paesi d'Italia era al quinto posto. Se poi a questo aggiungete che in realtà il G8 sono in realtà un G7, perché la Russia di fatto non partecipa più, diciamo quinta su sette come paesi, però probabilmente, e qui lo affronteremo, c'era un'eccessiva genericità di determinati principi. Carogero fa anche un'altra domanda, dice, ci sono stati atti normativi discendenti dall'open data charter? In realtà, Carogero, io sono un avvocato, quindi avrei piacere a dirle che no, non sono stati conseguenti, ce ne volevano di più. Il problema è che noi avevamo già nella nostra normativa vigente, al momento della sottoscrizione dell'open data charter avevamo già vigente nel nostro ordinamento il principio dell'open by default, articolo 52 del codice dell'amministrazione digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005 numero 82, era già un principio consolidato, quindi quello che per alcuni paesi a giugno del 2013 non era un principio codificato da nessuna legislazione vigente, per noi era già all'interno di una norma inserito il decreto, dall'articolo 9 del decreto legge 179 del 2012, cioè il cosiddetto l'agenda digitale italiana. La differenza poi l'ha fatta l'exercito, cioè l'ha fatta tra chi, anche solo un principio, che non sia un atto normativo, ha deciso di metterlo in campo, e invece chi, nonostante una norma, l'avete visto, il 64% delle amministrazioni intervistate di ricerca del Politecnico di Milano non adotta o comunque non esprime una licenza, eppure vi è un provvedimento normativo che ormai è colgente per tutti e lo è da oltre due anni. Vi dicevo, oltre all'iniziativa del G20, esiste quest'altra iniziativa, che è International Open Data Charter, che è un progetto che si è avviato nel corso dei mesi scorsi, che dovrebbe dare una cornice complessiva a tutte le iniziative, G8, G20, Open Government Partnership, un altro progetto multilaterale di collaborazione sui temi dell'open government, se voi andate su opendatacharter.net vedrete che in questi mesi, in queste settimane, si è scritta, si è chiusa una consultazione il 31 di luglio, sui cinque principi a cui una strategia di Open Data deve ispirarsi. Faccio parte di questo progetto come steward, come uno degli alfieri della carta che dovrebbe essere presentata nel suo testo definitivo alla fine di ottobre. Questi sono i cinque principi che voi vedete, Open Data by default, qualità e quantità dei dati, dati accessibili e usabili da tutti, sono temi che sono già emersi da alcune delle vostre domande, necessità di engagement e quindi di fare in modo che tutti i cittadini possano essere consultati allo stesso tempo, possano avere la possibilità di consultare e di comprendere i dati, e collaborazione per lo sviluppo e per l'innovazione. Dalla lezione della G8 Open Data Charter, che era una carta di principi, abbiamo imparato che l'International Open Data Charter, che sarà presentata e a cui poi gli strati potranno aderire da ottobre, questa International Open Data Charter sarà corredata da una serie di allegati tecnici per diverse materie, quindi l'idea è di stabilire, oltre a dei principi generali applicabili a tutti i settori, dei principi e delle regole sui diversi ambiti, la materia fiscale, la materia della trasparenza nell'industria e nelle estrazioni di materie prime, la materia dell'anticorruzione, in modo tale che gli stati non si vincoleranno soltanto a dei principi generici, ma addirittura si vincoleranno a delle regole assolutamente dettagliate per settore, addirittura vincolandosi al rispetto di alcuni standard. Come si raggiungono questi obiettivi? Visto che la strada è segnata e l'obiettivo è quello di utilizzare gli Open Data per combattere la corruzione, quali sono le tappe che a mio avviso sono necessarie? Provo ad esplicitare in modo probabilmente empirico, ma d'altronde sono un avvocato, la relazione e la correlazione, che tutti a livello internazionale sostengono esservi tra dati aperti e lotta alla corruzione. La correlazione è presto fatta, andando a prendere l'indice di corruzione percepita di Transparent International da un lato e dall'altro Open Data Barometer e Open Data Index, vediamo che i 15 paesi che hanno il ranking più alto e quindi che si contraddistinguono per la loro lotta alla corruzione sono tutti paesi che sono comunque al top delle classifiche Open Data, quindi sia Open Data Barometer sia Open Data Index, quindi esiste in modo empirico una correlazione. Grazie Calogero. Come però? Quali sono i passi, gli step da seguire per fare in modo che quella che è una correlazione empirica poi diventa un obiettivo conseguibile? Innanzitutto l'idea è quella di Transparent International UK in un report che ha stilato di raccomandazioni il governo inglese, non bene mi spero, e il governo dell'UK è al numero uno in questo momento nella classifica dell'Open Data Barometer e nonostante questo, per una maggiore consapevolezza delle iniziative di Open Data, anche lì Transparent International richiede un Open Data Autorice, cioè richiede un potere di coordinamento, un'autorità che consenta di raccogliere e di coordinare tra le diverse amministrazioni, viviamo in contesti amministrativi assolutamente complessi, in cui ci sono più livelli, c'è una diversificazione, una stratificazione delle competenze, quindi vi è necessità che la strategia complessiva abbia un coordinamento governativo forte e a questo coordinamento forte corrispondano da un lato la scelta di quali sono le informazioni da liberare prioritariamente, dall'altro vi sia la possibilità di poter pretendere che diversi livelli amministrativi di fatto pubblichino le informazioni con le modalità che sono state definite dall'Open Data Authority. Quindi in questo caso, quando io leggo nell'Osservatorio del Politecnico di Milano che il 42% delle amministrazioni deliberatamente non rispetta le linee guidate di cui pur conosce l'esistenza, a prescindere dal 24% che non ne conosce l'esistenza, oggettivamente c'è un tema di cogenza, e quindi il tema non è tanto delle norme, ma ho bisogno che poi qualcuno abbia la possibilità di rendere davvero quelle norme effettivamente applicabili. Il secondo passaggio, il secondo step, è la definizione di dataset chiave e a mio avviso questo è ancora più importante con riferimento alla materia dell'anticorruzione. Sarebbe a mio avviso assai importante se fosse possibile individuare per ciascun livello amministrativo, quindi a livello centrale, a livello regionale e a livello locale, quali sono i dataset, quali sono le informazioni, probabilmente alcune sono quelle ricomprese già nel decreto 33 del 2013, francamente non ritengo che siano tutte lì dentro, ma quelli che sono i dataset chiave, predisponendo un loro aggiornamento e facendo in modo che vi sia la possibilità di una consultazione congiunta. Francamente non credo che la parcellizzazione, per come è stata disegnata adesso nel modello di sezione amministrazione trasparente, funzioni. Poniamo il caso di un cittadino che abbia voglia di ricostruire determinate informazioni, disseminare la ricerca sui siti di migliaia di amministrazioni, migliaia di stazioni appaltanti, francamente è un'attività da persone che lo fanno in modo professionale o a tempo pieno, ma non è detto che un giornalista abbia il tempo per andare ad incrociare le informazioni su tutti i contratti di tutte le pubbliche amministrazioni, sarebbe sicuramente preferibile avere un unico punto di contatto, un unico sito o la possibilità di avere un servizio che mi consenta di poter fare una ricerca per quei dataset chiave, per tutti i livelli amministrativi, come accade all'estero, vedremo in alcuni esempi. Un'altra lezione che ci portiamo a casa, so che la settimana scorsa voi avete fatto un webinar sul FOIA, sul Freedom of Information Act, prossimo venturo, il Freedom of Information Act arriverà, perché il Parlamento ha provato a radere il governo, a modificare le disposizioni in materia di accesso, dicevo, quello che abbiamo capito è che là, ma lo abbiamo capito grazie ai paesi in cui questo esiste, abbiamo bisogno delle due componenti, abbiamo bisogno da un lato della componente di trasparenza proattiva e quindi della pubblicazione, decreto 33 del 2013, iniziative di open data delle singole amministrazioni, di dataset, dall'altro però la trasparenza proattiva, deve essere completata da iniziative degli utenti che abbiano davvero un diritto di accesso all'informazione senza necessità di dover declinare un interesse giuridicamente rilevante, cioè personale, concreto e diretto attuale. Questo è a mio avviso assolutamente centrale nelle valutazioni che stiamo facendo e è interessante comprendere come e quali siano i rapporti tra la trasparenza reattiva e la trasparenza proattiva. Quindi io non vedrei come molti hanno iniziato a fare FOIA e open data in conflitto. Noi abbiamo bisogno di un contesto per poter avere degli strumenti di prevenzione della corruzione, ma anche per poter avere degli strumenti che ci consentano di individuare lì dove invece la corruzione già purtroppo è stata perpetrata, abbiamo bisogno di avere entrambi gli strumenti. Da un lato la possibilità e il diritto di accedere a determinati dati e informazioni, dall'altro abbiamo avuto un accesso su tutte le informazioni, anche quelle su cui non rientri in obbligo di pubblicazione, con una serie di eccezioni tassativamente individuate. Questo poi lo vedete e lo trovate all'articolo 7 della bozza di Freedom of Information Act che c'è su foiaforitaly.it, la coalizione italiana per un Freedom of Information Act italiano, di cui ha parlato anche il collega nel webinar della settimana passata e sul quale probabilmente ci intratterremo più tardi. Quali sono a questo punto gli esempi da seguire? Prima di avviare un confronto tra noi proviamo a individuare una serie di esempi da seguire. Giovanni dice Noi operatori della PIA dobbiamo capire che si tratta di dati e informazioni, non di dati e informazioni nostre, ma appartenenti alla Repubblica. Su questo non vi è assolutamente dubbio. Direi che i cittadini lo hanno perfettamente compreso. Qualche volta mi è capitato di avere pubblica amministrazione in cui mi si diceva ma i miei dati, diceva il dirigente, diceva il funzionario. No, i dati non sono i tuoi, come giustamente dice Giovanni, i dati sono della collettività. Questa è un'affermazione a cui però il contesto giuridico normativo presenta delle criticità. Ad esempio, sapere ed avere una cristallizzazione di competenze molto diverse, per cui i dati che riguardano una determinata materia sono un pezzo di un'amministrazione, un pezzo di un'altra, un pezzo di un'altra, fa sì che sia sempre più difficile riuscire a ricostruire il puzzle di un determinato oggetto amministrativo. Ecco perché, dicevo, la possibilità di interazione tra trasparenza reattiva e trasparenza proattiva nella proposta di foia forita. Ritrovate una previsione che noi abbiamo inserito, ho fatto parte del gruppo di volontari che ha costruito l'iniziativa di Foia for Italy e che da qualche tempo richiede un foia in Italia. Lì dentro c'è una previsione che dice che sopra un certo numero di richieste di accesso foia che riguardino lo stesso dato, fa scattare l'obbligo per l'amministrazione di pubblicare quel dato. Questo significa ancorare lo sforzo di trasparenza proattiva dell'amministrazione ad un'esigenza reale. Cioè se io ho 10, 50, 100 utenti di un comune che mi hanno chiesto quell'informazione, significa che gli utenti di quel comune sono interessati, probabilmente gli utenti dell'ASL a 700 km di distanza non sono interessati a quel dato, a quell'informazione. Quindi provare a legare la trasparenza proattiva, e quindi gli sforzi, perché chi di voi lavora, e ne ho visti molti, l'iniziativa di Open Data sa perfettamente che l'iniziativa di Open Data, se fatta in modo serio, tutto sono, tranne che iniziative che non richiedono impegno, che non richiedono sforzi, che non richiedono organizzazione, che non richiedono anche un minimo livello di investimenti. Questo significa ancorare in modo propizio e in modo corretto gli investimenti e gli sforzi a esigenze reali, evitando invece che ci sia un sovradimensionamento per alcune esigenze e un sottodimensionamento per altre. Dicevamo, quali sono alcuni esempi da seguire? Questo che vi ho indicato in questa slide, per ciascuno degli esempi ho provato a darvi un link a cui potete provare voi stessi l'amministrazione e il livello di trasparenza che viene fornito. Questo è un progetto di Sunlight Foundation, che è una delle organizzazioni mondiali più importanti in materia di Open Government, che con i dati dei contributi a partiti e organizzazioni politiche, e quindi non stiamo parlando di pubbliche amministrazioni, ma sappiamo perfettamente quanto questo possa essere importante. I finanziatori delle campagne elettorali, i finanziatori delle spese, di sindaci, di presidenti di regione, quanto questo possa avere un effetto sulle scelte, sui contratti nei casi peggiori. Questo è un sito che vi consente di visualizzare ed avere un rapido, veloce accesso, come diceva prima anche una delle partecipanti, a quell'informazione. Ovviamente, qual è il presupposto? Il presupposto è che vi sia un obbligo di pubblicità, di una serie di informazioni, e che venga vincolato in Italia il Decreto 33, che inizialmente ci ha approvato, ancora tanto, ancora andando la corresponsione dei contributi, ai rendiconti dei gruppi consigliari, regionali e provinciali, ovviamente tutti voi avete ben presente le vicende di cronaca che sono dietro a questa previsione, è altrettanto doveroso che qui non si parla soltanto della trasparenza dei gruppi provinciali, ma qui stiamo parlando di quelli che sono i dati delle campagne elettorali, di quello che è il finanziamento dei partiti politici, e perché no anche delle fondazioni che molto spesso vengono creati proprio per fuggire alla trasparenza di determinati dati. Poi vi sono le informazioni relative al, questo è un esempio che proviene da Transparency International, della proprietà degli organi di informazione, cioè sapere qual è la situazione, e come cambia nel tempo l'assetto societario dei media nazionali, regionali, locali, può essere importante anche per capire quali possono essere le questioni e conflitti di interesse. Questo è un progetto che io amo particolarmente, perché rappresenta il caso di un'informazione apparentemente banale, ma che ha una serie di impatti molto importanti. Questa applicazione che voi trovate sullo store del vostro dispositivo iOS è un'applicazione che riutilizza il dataset dei visitatori della Casa Bianca, quindi a chiunque di voi è capitato di andare in un'amministrazione, di chiedere un passi e di venire registrati. Se voi venite registrati e richiedete un passi alla Casa Bianca, il dato relativo alla vostra presenza finisce in un registro, quel registro periodicamente viene pubblicato in formato aperto, questo consente di crearci un'applicazione che consente a tutti di sapere chi è stata la persona più visitata della Casa Bianca. casualmente abbiamo Barack Obama. Attenzione, questo potrebbe apparire poco rilevante, in realtà le persone vengono visitate, quindi gli appuntamenti, i colloqui riflettono il livello di importanza nell'ambito di una determinata geodarchia. Non è detto necessariamente che quelli che hanno un livello apicale siano quelli che fanno necessariamente i puntamenti. Potremmo renderci conto da questi dati di quelli che sono effettivi i centri di potere in un'amministrazione a prescindere da quella che è la pianta organica, a prescindere da quello che è l'organigramma del lente. Dopodiché, cliccandoci sopra abbiamo addirittura le persone che hanno visitato. Quindi, per esempio, se noi cliccassimo, faccio un esempio di pura fantasia, perché sappiamo che non è così, cliccassimo su Barack Obama vedremo quali sono le persone che hanno visto più volte Barack Obama nel corso di un determinato anno. Ci renderemmo conto ad esempio se Barack Obama è stato visitato da un noto lobbista delle armi del perché in quel paese non è stata approvata una legislazione più restrittiva nei confronti delle armi. Ma a prescindere da questo ricorderete tutti assolutamente e questo chiunque vi abbia esperienza di lotta alla corruzione, di campagne per l'altra corruzione, si parla da tempo in Italia di una regolamentazione dei lobby, voi ricorderete che in una delle inchieste legate ai lavori di Expo dell'Esposizione Universale vi fu la notizia per cui uno degli indagati imputati aveva un accesso settimanale ai locali di una delle due camere in cui si recava periodicamente. Probabilmente tracciare se quel dataset fosse stato pubblico un giornalista avrebbe potuto facilmente individuare anche perché si trattava di una persona che aveva già dei precedenti su determinati reati contro la pubblica amministrazione per la corruzione in particolare sarebbe stato assolutamente facile arrivarci probabilmente prima della magistratura. Dopodiché gli utilizzi in applicazioni di questo tipo sono differenti. Giuseppe Menard dice bella applicazione una simile riguardante gli accessi e le presenze dei parlamentari anche qui non ho fatto in tempo inserirle tutte ma c'è sicuramente Open Parlamento Open Police quindi è stato uno dei primi esperimenti in Italia di riutilizzo dei dati tra l'altro all'epoca non erano nemmeno aperti quando l'associazione Open Police ha iniziato formendo un servizio se voi andate su Open Police avrete assolutamente molte di queste informazioni quali sono stati i voti che hanno dato in assemblea quali sono state le proposte di legge presentate è un'applicazione sicuramente molto importante tra l'altro credo che se la memoria non mi inganna abbia vinto il primo contest sull'utilizzo dei dati aperti nel 2012 questo è un altro caso Open Expo è un caso tra l'altro che riguarda un esperimento di collaborazione direi di uscito tra società civile e pubblica amministrazione tra l'altro un progetto gestito da Formex la trasparenza dei contratti anche qui di Expo realizzato in collaborazione con Wikitalia una situazione della società civile la società Expo 2015 che ha messo i dati e poi Wikitalia e Formex che hanno realizzato la parte che voi vedete di cruscotto dei lavori quindi non soltanto la pubblicazione del dataset in CSV ma addirittura la possibilità di poter vedere lo stato dei lavori in modo veloce in tempo non dico reale ma in modo aggiornato con un colpo d'occhio in modo tale che potesse essere di facile consultazione anche per i non addetti ai lavori per quelli che non si interessano di lavori e contratti pubblici ovviamente quello che viene fatto per OpenExpo 2015.it potrebbe essere fatto così come in questo in questo portale che viene sempre da un'iniziativa promossa anche da Transparency International per tutti i contratti della pubblica amministrazione quindi riuscire ad avere come dicevo prima in modo aggregato così come abbiamo le informazioni su SIOP per la spesa delle pubbliche amministrazioni e anche qualcosa sui contratti riuscirebbe a darci un primo livello di aggregazione visibile per tutti e la possibilità invece per chi vuole condurre le sue verifiche e chi vuole approfondire e investigare ulteriormente di poterlo assolutamente fare esistono diversi altri esperimenti questo viene dalla Grecia ce ne sono due che vi ho che vi segnalo che vi ho segnalato che vengono dalla Grecia sempre sulle assemblee sulle assemblee elettive ma qui c'è la possibilità di fare una specie di question time cioè di andare oltre o dal lato da un lato la produttività cioè quello che fanno chi incontrano e dove sono presenti dall'altro la possibilità di poter interagire con loro un altro questo progetto che è sempre governativo è relativo alla pubblicazione di tutti gli atti deliberati pubblica amministrazione voi mi direte ma il decreto 33 del 2013 obbliga già le amministrazioni a fare lo stesso articoli 23 e seguenti articoli 23 sui provvedimenti della pubblicazione dei provvedimenti dei dirigenti semestrale e l'elenco però dei provvedimenti stiamo parlando di tutti i provvedimenti e l'articolo 24 i dati relativi ai procedimenti amministrativi anche qui ho due profili il primo è l'aggiornamento dire nel 2015 che un dato viene pubblicato semestralmente significa spostare la possibilità in cui l'opinione pubblica potrà fare da cane da guardia su un determinato tema in là nel tempo il secondo è la parcellizzazione ogni ente ha la sua amministrazione trasparente questo invece è un sito che aggrega le pubblicazioni delle diverse amministrazioni e che tra l'altro consente la pubblicazione prima che gli atti entrino in vigore questa è una cosa importantissima cioè la possibilità per le pubbliche amministrazioni di pubblicare i draft cioè le bozze degli atti che devono essere approvati o comunque dei provvedimenti ma pensate che cosa potrebbe succedere con l'approvazione del draft di un capitolato per chiedere commenti o per chiedere contributi progettuali agli utenti in modo tale da perfezionarlo prima che possa diventare prima che venga pubblicato con il corso dei termini e i fini appunto di legge per raccogliere le offerte sarebbe sicuramente importante e soprattutto consentirebbe di tenere l'attenzione elevata e di consentire a tutti i cittadini attenti di poter evitare determinati comportamenti io mi mi avvio alla conclusione per lasciare qualche minuto di dibattito dicendo che ovviamente la mia trattazione va per spunti e quindi non poteva avere un approccio di tipo sistematico quello che però è sotteso come ripeto l'abbiamo citata all'inizio e era mia intenzione citarla anche alla fine come ci ricorda l'esperienza di open coesione nessuno di questi risultati si raggiunge senza cultura e senza formazione nel senso che ho necessità di lavorare tanto nella alfabetizzazione del livello apicale delle pubbliche amministrazioni tanto di chi poi deve gestire tutti i procedimenti amministrativi e deve sapere che seguire un determinato iter alimentare delle banche dati non è una stortura non è un appesantimento rispetto all'iter precedentemente cartaceo ma è qualcosa che serve ad avere sempre il controllo dello stato del procedimento amministrativo per finalità di efficienza per prevenire che ci siano dei fenomeni corruttivi e poi per consentire una adeguata trasparenza ma e qui ritorno su un punto che per me è centrale sollevato anche dall'attività di TACOD è relativa al tema famoso della nicchia cioè perché le persone non riutilizzano i dati innanzitutto perché oggi non saprei neanche quali dati di riutilizzare quindi non c'è domanda è ovvio che alcuni casi riusciranno a far comprendere alle persone e alle amministrazioni di importanza dei dati e dei dati aperti ho bisogno però di continuare un'attività di informazione e di alfabetizzazione anche delle imprese perché altrimenti correrò il rischio di fare una attività onerosa costosa di operare un cambio di mentalità all'interno della pubblica amministrazione ma di far sì che i vostri sforzi voi 166 che siete qui in un lunedì mattina di inizio anzi ormai di metà settembre i vostri sforzi potrebbero non essere adeguatamente finalizzati se a valle di questo processo non troverete dei cittadini attenti non troverete dei giornalisti cani da guardia non troverete delle imprese pronte a cogliere queste opportunità io a questo punto vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato fin qui e vi chiedo quali sono i problemi ti ridiamo la parola dopo lascerei pochi minuti a Gianfranco per parlare delle video lezioni che abbiamo realizzato su questo tema Gianfranco Andriola collega di Formex e lavoriamo appunto nell'ufficio che segue tutti questi temi quindi vi lascerei la parola eccolo Gianfranco ciao grazie mille Patrizia grazie Ernesto no io faccio giusto due secondi per raccontarvi quello che abbiamo fatto in proposito mi permetto di rubare una bella slide Ernesto che era questa qui dove si parlava dell'importanza della cultura digitale penso possiamo chiamarla in questo modo nell'esposizione dei dati da parte della pubblica amministrazione cioè è necessario che nel momento in cui i dipendenti pubblici e tutte le persone coinvolte nel processo di produzione di quei dati siano consapevoli dell'importanza che quei dati possono avere già la valorizzazione dei dati stessi una volta esposti in formato aperto è importante che ne siano consapevoli proprio a questo proposito un po' di tempo fa un po' di tempo fa mi dicono che si sente male si sente molto poco meglio va meglio mi date un feedback vi dicevo che aprendo questo link che vi ho appena postato in chat finirete su youtube Maurizio mi dice che va meglio grazie mille finirete su youtube in particolare su una playlist che contiene 11 video lezioni dedicate proprio all'approfondimento sul tema dei dati aperti sono contenuti pensati per non esperti non perfettamente adetti ai lavori quindi l'idea è quella di provare a fare un primo affondo sul significato dei dati aperti con le prime video lezioni su quali dati stiamo parlando qual è l'impatto che fino ad ora ha avuto in Italia una pubblica amministrazione italiana il tema dell'open data e successivamente provare a capire come questi dati possono essere riutilizzati questo aspetto è particolarmente importante da parte di chi sta esponendo dati di chi produce dati perché se ci riflettete un attimo si tratta un po' di incrocio tra domanda e offerta cioè da un lato la pubblica amministrazione offre dati quindi propone delle informazioni in formato aperto riutilizzabile dall'altro quella della domanda dei sviluppatori di giornalisti di chiunque abbia interesse voglia capacità di riutilizzarli quindi proprio per una pubblica amministrazione diventa essenziale capire quello che avviene ai dati una volta che sono aperti diventa essenziale per capire come aprirli con quale sistema con quali metodi con quale tecnologia e soprattutto torno con forza a quello che diceva Ernesto prima nell'ipotizzare una roadmap cioè un percorso che parta dal screening iniziale per capire quali possono essere i dati più interessanti in secondo luogo ragioni su quella che può essere il modo migliore per esporli quindi un data store nel caso in cui si tratti di una forte quantità di dati quale può essere la tecnologia più adatta se parliamo di dati statici può essere utile un csv se parliamo di cose più complesse si può ragionare su formati più complicati anche più onerosi da produrre e soprattutto necessario riuscire a capire quella che può essere un timetable cioè una divisione in tempi che aiuti chi vuole riutilizzare quei dati a sapere quando saranno pubblicati quei dati e quando tornerà essere più utile rimettere mano ai dataset una volta aperti quindi davvero erano solo 5 minuti conclusivi io chiedo a Patrizia se è necessario fare un approfondimento su qualcos'altro ne posso approfittare semplicemente per dirvi che in questo momento sono in produzione altre video lezioni che faranno parte di un progetto più ampio dedicato alla Formatline che come Format area innovazione tecnologica proporremo brevissimo come si tratta di una serie di MOOC cioè di corsi interamente online dedicati alla pubblica amministrazione su alcuni temi principali ovviamente da questi non mancherà l'open data e non mancherà il tema dell'accountability cioè del come rendere trasparente rendi contabile osservabile la pubblica amministrazione anche attraverso l'open data posso io direi che detto questo posso avviarmi verso la conclusione ripasso la parola a Patrizia quindi mi taccio ringrazio tutti voi ringrazio Ernesto ringrazio Patrizia per lo spot e ringrazio tutti voi per l'attenzione a presto grazie mille allora ripasso